Tutte le polemiche, le controversie sorti attorno a Trump in questi anni vengono lette da un pezzo almeno dell'elettorato americano come una conseguenza del suo essere sempre contropelo, del suo essere sempre provocatorio nei confronti di un sistema che però agli americani non piace. Il Parlamento, il Congresso, la polverosità delle aule di tribunale. Ecco, Trump scompiglia, Trump spariglia e questo per diverse persone è liberatorio e anche a volte un desiderio di vedere caos e tumulti dentro ambienti che si giudicano chiusi, sigillati rispetto all'esterno, protetti da quello che accade all'esterno. Trump è il fumogeno che viene lanciato dentro il Congresso e costringe tutti a scappare, quello che poi è accaduto il 6 gennaio. Ecco, Trump è in senso figurato quella cosa lì. Allora, l'introduzione di Globo di oggi sarà breve. Stiamo registrando questa puntata mercoledì 6 novembre nel pomeriggio, a poche ore dall'annuncio della vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi e, aggiungiamo, a poche ore dalla fine della lunghissima diretta streaming con cui al post abbiamo seguito queste elezioni. Questa nuova vittoria di Trump è un evento epocale che segnerà la storia degli Stati Uniti e del mondo nei prossimi anni. Oggi inizieremo a commentarla, a cercare di capire che cos'è successo e soprattutto cercheremo di dare delle prospettive, oltre alle singole news, oltre alla cronaca e delle chiavi di lettura. Ovviamente, per farlo, è venuto a Globo il vice direttore del Post, Francesco Costa. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cato. Francesco, bentornato. Ciao Eugenio, ciao a tutti, grazie. Cominciamo da una domanda molto rapida, molto secca. Com'è avvenuta questa vittoria così netta, perché è stata davvero netta, di Donald Trump? Allora, naturalmente la premessa necessaria è che non è che siamo qui col senno di poi a raccontare come è successa una cosa, che alla vigilia qualcuno, certo, aveva indicato tra i risultati possibili, se non addirittura il più probabile, ma ecco, se servirà qualche tempo, bisognerà un po' capire questi dati, aspettare analisi più precise per capire le cause di quello che è accaduto. Per certi versi, non è stata una sorpresa, nel senso che non solo i sondaggi indicavano questo risultato come ampiamente possibile, e anzi, nelle ultime settimane, l'umore generale negli Stati Uniti attorno a questa competizione vedeva Trump in vantaggio. Ma ci sono alcune ragioni molto concrete che hanno dato forza a Trump in questa campagna elettorale, e sono grandi, questioni molto grosse. La prima, l'inflazione. Se allarghiamo un po' lo sguardo, tutti i capi di governo e i leader mondiali che hanno presieduto, diciamo, sono stati tali durante gli anni peggiori dell'inflazione, quelli seguiti alla pandemia, diciamo 2021-2022, hanno pagato un enorme prezzo in termini di consenso o hanno perso il loro posto al governo? E questa è una storia che riguarda il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha un tasso di popolarità intorno al 20%, che riguarda il presidente francese Emmanuel Macron, che riguarda il primo ministro giapponese, che riguarda il primo ministro canadese, persino il primo ministro indiano. Modi, che si diceva essere il più popolare leader democratico del pianeta, ha ottenuto un risultato molto deludente alle elezioni indiane. Insomma, non è una sorpresa che il partito che negli Stati Uniti era al governo durante quegli anni di inflazione, oggi paghi un grande prezzo politico. Un'altra grande questione, poi magari durante la nostra chiacchierata entriamo più nel dettaglio, è l'immigrazione. Durante i primi tre anni dell'amministrazione Biden, il numero di persone entrate irregolarmente negli Stati Uniti è cresciuto moltissimo e quasi triplicato rispetto al passato, e non il passato nel senso del 2020, chiaramente un anno straordinario, ma anche rispetto agli anni di Obama, a seguito di una serie di scelte politiche che hanno preso i democratici e che sono state molto sgradite all'elettorato anche per le conseguenze che hanno avuto. Infine, l'intera campagna di Harris si reggeva anche sulla sua capacità di dire in modo convincente una bugia, una bugia molto grossa, e cioè che il presidente Biden era in grado di fare il candidato ed era in grado di difendere la causa dei democratici a queste elezioni, che era perfettamente in grado di governare. Questa bugia si è rivelata tale quando poi Kamala Harris è subentrata a Biden perché Biden si è ritirato dopo quel dibattito disastroso, ma Kamala Harris da lì in poi non ha più investito grandi sforzi nel distanziarsi da Biden, nonostante la sua grande impopolarità, e anzi ha continuato a dire che Biden andava benissimo, nonostante lei fosse lì perché Biden non andava benissimo. Ed è difficile convincere le persone che questa non fosse una bugia, ed è difficile quindi poi trovarsi a difendere anche l'attività di governo di Biden sull'immigrazione, sull'inflazione e su mille altre cose, se dici, come ha detto poi Harris durante un'intervista televisiva, non c'è niente che io avrei fatto diversamente da lui. Ti chiedo di approfondire un attimo quest'ultima cosa che hai detto, perché una cosa che si è detta abbastanza di frequente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è che Harris nella sua brevissima campagna elettorale, ricordiamolo di fatto Donald Trump è in campagna elettorale dal 2022, dalle elezioni di metà mandato, Harris invece l'ha iniziata a luglio, quando Joe Biden si è ritirato, nella sua brevissima campagna elettorale Harris ha commesso pochi grossi errori. Ci sono poche cose che Harris si può rimproverare a livello di dichiarazioni, a livello di strategie, a livello di gestione del messaggio politico, di aver fatto male in questa campagna elettorale. Che cosa ha sbagliato Kamala Harris? Di nuovo con tante mani avanti, però la principale probabilmente è questa mancata capacità, ma direi mancata volontà, è stata una scelta politica, di mettere una certa distanza tra lei e l'amministrazione di cui faceva parte. Chiaramente era molto difficile, perché era comunque la vicepresidente e la vicepresidente in carica in questo momento, ma l'idea che questa opposizione dell'elettorato verso l'amministrazione fosse legata soltanto a Biden come persona e non ad alcune politiche dell'amministrazione Biden le ha impedito di distanziarsi da quelle politiche e ha pensato che bastasse il resto per compensare, dove il resto era presentare una visione del futuro, secondo il punto di vista dei democratici, attraente, seducente verso l'elettorato, e anche il semplice fatto di non essere Joe Biden, cosa che lei ha tirato fuori più volte quando le veniva chiesto qual è la differenza tra te e lui, lei non diceva Biden ha sbagliato su questo, Biden ha sbagliato su quest'altro, lei diceva ma io non sono Joe Biden, ecco questo non è bastato per rimuovere i temi di cui parlavamo poco fa, l'inflazione, l'immigrazione, poi c'è anche una questione che non riguarda soltanto Kamala Harris, perché quando è diventata candidata lei ha ottenuto il sostegno dell'intero partito, dalla corrente più di sinistra alla corrente più moderata, e la sua campagna elettorale è stata la campagna elettorale di una classica candidata del partito democratico, ma questo è stato, col senno di poi naturalmente, un pezzo del problema, perché quello che abbiamo visto in questo risultato elettorale è stato uno spostamento a destra massiccio, non di un segmento della popolazione, o non una mancata partecipazione di un altro pezzo, ma come dicono gli americani, across the board, cioè tutti i segmenti della popolazione, indipendentemente dall'età, dal fatto che vivano in una città o nelle campagne, che siano uomini o donne, che siano bianchi o non bianchi, si sono spostati a destra, e la storia poi di questi mesi, il racconto della campagna elettorale, i sondaggi stessi, la realtà che si percepiva poi sul campo, viaggiando tra le persone, era di un grande rigetto per molte delle proposte del Partito Democratico, soprattutto, peraltro, questa è una questione interessante di cui si parlerà molto, le proposte maturate, non tanto durante questo ultimo quadriennio, ma durante il quadriennio precedente, cioè quando Trump era al governo, i democratici erano all'opposizione, i democratici si sono molto spostati a sinistra, su molti temi durante quegli anni, e durante la campagna del 2019-2020, questo spostamento si è visto in tante proposte concrete, che hanno perseguitato, per esempio, Kamala Harris, durante questa campagna elettorale. A lei è stato chiesto conto di cose che disse nel 2019, quando si era candidata alla presidenza, cose che lei oggi sostiene di non pensare più, ma non ha mai dato delle spiegazioni convincenti. Prima eri contrari al fracking, ora sei favorevole. Prima dicevi che lo Stato avrebbe dovuto pagare le operazioni per le transizioni di genere anche delle persone detenute. Prima dicevi che era il caso di depenalizzare il reato di ingresso irregolare nel Paese. Prima si pensava che la polizia fosse il problema, il problema legato al razzismo, alla violenza e che bisognasse essere meno repressivi nei confronti della criminalità. Oggi tutte queste cose non le pensi più. Che cosa è successo? Harris non ha mai saputo dare una risposta convincente a queste domande. Ha detto, i miei valori sono rimasti sempre quelli. Ma a fronte del rigetto da parte di moltissimi americani, anche americani che avevano votato Biden, americani che per tutta la vita avevano votato per i democratici, una risposta convincente non c'è stata. E lei è rimasta incatenata a una legacy politica che alla fine ha finito per trascinare giù non soltanto lei, ma il partito intero. Riprendo questa cosa che hai detto del fatto che la sconfitta di Kamala Harris, forse più ancora che la vittoria di Donald Trump, è venuta across the board, attraverso tutto l'elettorato. Sono usciti ormai i dati dei sondaggi demografici. Kamala Harris non è riuscita a migliorare i risultati che Joe Biden aveva ottenuto nel 2020 in nessun segmento demografico. Non c'è riuscita fra le donne, e questo è notevole, non c'è riuscita fra i giovani, non c'è riuscita fra gli afroamericani, è crollata con i latinoamericani. Harris ha faticato anche in stati, in contè, in zone fortemente democratiche, come per esempio lo stato di New York, dove si prospetta per Harris un risultato fra i peggiori degli ultimi decenni per il partito democratico in generale. Dicevi che gli Stati Uniti si sono spostati a destra e questo risultato sembra dimostrarlo. Al tempo stesso però questo spostamento a destra è stato non tantissimo evidente, cioè non si parlava fino a relativamente poco tempo fa, ma anche fino a pochi giorni fa, del fatto che ci fosse stato uno spostamento a destra così massiccio. Non ce ne siamo accorti. Com'è stato possibile? Guarda, questo spostamento a destra noi lo vediamo nel voto delle persone naturalmente. Diventa più difficile, secondo me, utilizzare il voto e il risultato elettorale per leggere nella testa delle persone e capire come sono cambiate le loro idee e il perché hanno espresso questo voto. Perché il voto di cui parliamo è arrivato per Trump da contesti e da gruppi sociali che fino all'altro ieri votavano per i democratici. Allora uno pensa che questi improvvisamente abbiano sbattuto la testa e siano diventati di destra, siano svegliati più di destra di prima, oppure che a fronte di una situazione, di contesto che in parte è anche quella che abbiamo già descritto, le grandi priorità in questo momento per gli americani erano l'economia, soprattutto la lotta all'inflazione e l'immigrazione. Semplicemente dai democratici non si è arrivata una risposta convincente. A me è capitato di parlare con tantissime persone quest'estate negli Stati Uniti, ma anche in autunno. Chi vede i video di da costa a costa ha visto anche queste persone che dicevano io non ho nessuna particolare affinità con Trump, non mi piace per moltissimi versi, però io ho una serie di problemi e lui mi propone una serie di risposte, mentre i democratici mi dicono che lui è un fascista, che la democrazia è in pericolo, che è un personaggio impresentabile. Alla fine, però, alle mie esigenze, lui propone una soluzione e quella dei democratici banalmente o non la capisco o non è una soluzione. Perché se io dico che ci sono troppi immigrati irregolari nel paese e lo dico, peraltro, da democratico, cosa che fanno molti democratici, i democratici sono in maggioranza favorevoli alle espulsioni di massa adesso negli Stati Uniti. Lo dico perché ne sono arrivati il triplo rispetto al passato negli ultimi tre anni, perché la mia città ogni mattina si svegliava con 4.000-5.000 persone sul marciapiede di cui prendersi cura, perché grazie alla porosità del confine voluto dall'amministrazione Biden, che ha rimosso le misure repressive di Trump ma poi non le ha rimpiazzate con nient'altro, perché la sinistra del partito non le voleva, è entrato un sacco di fentanyl, un sacco di droghe che hanno massacrato le persone più povere della mia città, che hanno reso la mia città e certi quartieri invivibili. Ecco, a fronte di tutto questo la risposta di Harris, la risposta dei democratici per certi versi era incomprensibile, illegibile. Con questo voglio dire che non è affatto escluso che queste persone poi al prossimo giro elettorale possano tornare a votare per il Partito Democratico. Questa è stata chiaramente quella che viene chiamata una wave election, cioè un'elezione in cui c'è un'onda che accompagna, che spinge con forza tutti i candidati di un certo partito, non solo per la Casa Bianca, per il Parlamento, per le corse locali, a fronte di un chiaro rigetto non di una scelta politica, di un errore fatto, di una candidata o di un candidato, ma di un intero modo di parlare agli americani dei loro problemi. Questo non vuol dire che in futuro queste perdite possano essere invertite o che i democratici non possano parlare in modo convincente ai repubblicani e a quel punto cosa si fa? Si parla di uno spostamento a sinistra. Molte persone si rifiutano di collocarsi su quest'asse, semplicemente votano volta per volta per il candidato che gli sembra dare le risposte più convincenti ai suoi problemi, anche se quelle risposte poi non stanno né in cielo né in terra, sono delle proposte irrealizzabili, però lui capisce quello che sento e questa è la cosa che sembra essere mancata alla proposta politica del Partito Democratico. Questo è interessante perché questa interpretazione del voto smentisce una cosa che si era detta quando iniziò la campagna elettorale di Kamala Harris quest'estate ed era che Kamala Harris era riuscita a incentrare il suo messaggio politico sul desiderio di normalità, sul fatto che soprattutto dopo i complicatissimi, incasinatissimi anni dieci negli Stati Uniti in cui appunto come ci hai raccontato il Partito Democratico si è spostato molto a sinistra, il Partito Repubblicano si è spostato molto a destra, c'è stata una fortissima polarizzazione, l'elettorato americano volesse normalità, volesse smettere di avere a che fare con presidenti con il cero un arancione, volesse smettere di avere a che fare con strani figure di estrema destra, volesse smettere di avere a che fare con dall'altro lato movimenti molto identitari a sinistra. E tanto che quando Tim Walz candidato vicepresidente che ora non lo diventerà disse che i repubblicani anziché i trampiani erano weird, erano strani, si disse ecco, questa parola weird incapsula, rappresenta questo desiderio di normalità, non vogliamo la gente strana, vogliamo la gente normale, e invece hanno votato la gente strana. Oppure questo desiderio di normalità riguardava qualcos'altro, riguardava avere dei prezzi più bassi, riguardava avere un confine sicuro e da cui non passino milioni di persone ogni anno, soprattutto in modo retroattivo, il giudizio degli americani rispetto agli anni di Trump è cambiato nel corso di questi anni e anni che sono ricordati anche per questo caos di cui parlavi, per questa teatralità, imprevedibilità del presidente americano, sono stati ricordati e sono ricordati da molti americani anche come un'epoca in cui però l'economia andava molto bene e non c'era l'inflazione, in cui il confine era più sicuro di quanto fosse adesso, in cui persino il mondo sembrava un posto più tranquillo e chiaramente ora diventa complicato e lungo fare tutta una serie di ricostruzioni di legami di cause ed effetto rispetto a quello che è accaduto in Ucraina, a quello che è accaduto in Israele e a Gaza e collegarlo alle scelte di Trump nel suo primo mandato, alle scelte di Biden di quest'anno, ma ecco, molti hanno avuto la percezione che in realtà il mondo fosse più normale negli anni di Trump e non solo, dato che lo scopo di questa nostra chiacchierata è anche provare a capire questo risultato e quindi capire perché le persone americane hanno votato in maggioranza per Trump, fammi interpretare l'elettore di Trump in questo momento e quello che potrebbe rispondere lui a questa domanda fai anche l'accento però faccio anche l'accento un po' del sud un po' strascicato quando Tim Walz per parlare dei repubblicani li accusava di essere weird quando per descrivere le loro proposte per esempio sul diritto all'aborto diceva mind your own business fatevi gli affaracci vostri diceva una cosa che per moltissime persone era strano e forse anche un po' ipocrita sentire dal partito democratico improvvisamente il motto dei democratici è diventato fatevi gli affari vostri fateci vivere la vita come vi pare ma non siete voi che ci dite che dobbiamo cambiare la macchina per forza entro il 2030 che sono costretto a cambiare il fornello di casa perché il fornello che ho adesso non va più bene che non posso più parlare come parlavo prima perché questa parola è offensiva perché questa espressione è sbagliata e adesso voi siete il partito che dice fatevi gli affaracci vostri fateci vivere come ci pare se questo è il messaggio è molto più credibile Trump come ambasciatore del messaggio ognuno faccia un po' quello che vuole non ci rompete le scatole da parte dei democratici questo messaggio è stato abbracciato in un modo un po' opportunista che ha finito poi per spiazzare moltissimi americani che ci hanno visto una sorta di tentativo furbo di dare un vestito più convincente a certe loro opinioni ma siete voi che dite faccio ancora il repubblicano e non mi accusare per queste cose ma siete voi che dite che se io domani mattina mi sveglio e decido che non mi identifico più in un uomo ma in una donna allora se vado in carcere posso essere detenuto con le donne detenute se pratico uno sport posso gareggiare contro le atlete donne e gli strani sarebbero i repubblicani quanto ha contato il fatto che Kamala Harris è una donna perché insomma stiamo a due su due è ora vero che Hillary Clinton era una candidata particolarmente inadeguata per il momento storico vero che Kamala Harris ha fatto una campagna elettorale soltanto di tre mesi e si è trovato in una situazione in cui le amministrazioni post covid sono state tutte punite però siamo a due su due guarda può darsi certamente non si può escludere di certo oggi possiamo dire che per gli americani è stato più facile eleggere una persona afroamericana che una donna due su due in entrambi i casi contro Trump questo argomento però rischia di essere un po' autoconsolatorio sia per i democratici che in generale per chi cerca spiegazioni a questa sconfitta perché vai a vedere che di tutte le cose che possiamo aver sbagliato quella che ci ha fatto perdere è l'unica su cui non potevamo agire perché Kamala Harris è una donna mica possiamo travestirla da uomo e quindi alla fine siamo innocenti perché non è colpa nostra Kamala Harris è una donna e gli americani non votano le donne e rischia di essere autoconsolatorio anche perché poi se vai a vedere i risultati delle elezioni per il congresso le donne vengono elette alla Camera vengono elette al Senato vengono elette a incarichi importanti sono popolari non c'è un gap di impopolarità che penalizza le donne rispetto agli uomini la stessa Kamala Harris in queste elezioni è andata peggio di candidate democratiche alla Camera e al Senato che nello stesso collegio quindi con gli stessi elettori sono stati votati più di lei e quindi io sono sessista se voto per il presidente ma mi va bene avere una senatrice donna in quel caso non sono sessista mi sembra un po' strano non voglio però eludere la questione ma secondo me la questione è più profonda del semplice Kamala Harris è una donna e gli uomini non l'hanno votata l'intero partito democratico è diventato soprattutto dal mandato di Trump in poi a causa anche di una serie di questioni la sentenza sull'aborto eccetera un partito che viene definito dagli analisti politici ideologicamente femminile non lo dico senza dare nessuna accezione negativa a questa descrizione però è un partito che stereotipicamente nei suoi valori e nella visione di società che propone viene associato dagli americani più a un certo modo ripeto stereotipico femminile di sensibilità di accoglienza di cura verso il prossimo di cura verso i deboli e questo ha portato a un forte respingimento di un pezzo dell'elettorato maschile si exocia a tutto questo anche un'altra cosa che nei processi culturali che fanno cambiare e che hanno fatto cambiare il mondo progressista americano negli ultimi anni c'è molto ed è stato molto detto e viene detto anche qui e non voglio contestare questa tesi ma presento questo come un fatto sul tavolo l'idea che gli uomini in quanto tali siano un problema che la cultura maschile in quanto tale sia un problema che gli uomini in quanto tali prima ancora di aver detto fatto qualcosa in quanto uomini sono portatori intrinseci di prepotenza di violenza di egoismo se un intero mondo culturale poi produce questo tipo di idee magari completamente fondate giustissime nei giornali nelle riviste e poi diventano proposte politiche un modo di leggere la società poi che una parte dell'elettorato maschile non voglia votare per qualcuno che gli dice dalla mattina alla sera la colpa è tua il problema sei tu non è così strano da immaginare se i democratici pensano che questo sia uno dei problemi della società la cultura maschile eccetera probabilmente deve trovare un altro modo di parlarne agli uomini altrimenti l'idea che a forza di dire a qualcuno sei il problema sei tossico sei violento eccetera questo a un certo punto possa decidere vabbè mi hai insultato così tanto che ti voto ecco non mi sembra una strategia promettente questo si è visto molto in questa campagna elettorale soprattutto per quanto riguarda il voto dei giovani uomini anche dei giovani uomini non bianchi e Trump ha passato la campagna elettorale saltando da un incontro di box a uno di arti marziali miste andando alle partite di football approfittando di ogni occasione stereotipicamente invece associata alla forza proiettata dall'uomo forte dal maschio che non ha paura di essere giudicato dagli altri anche questo chiaramente è uno stereotipo ma se dall'altra parte il messaggio è globalmente accusatorio nei confronti degli uomini in quanto tali il richiamo di Trump ha evidentemente funzionato di più e Joe Biden quante colpe ha? col senno di poi ma questo anche senza senno di poi si è visto già quest'estate Joe Biden avrebbe dovuto annunciare la sua scelta di non ricandidarsi dopo le elezioni di metà mandato del 2022 dando modo quindi al partito democratico di organizzare una normale competizione come quella che hanno avuto i repubblicani un'elezione primaria che dura mesi che permette al candidato o alla candidata più forte di emergere e anche di farsi conoscere uno dei grossi problemi di Harris in questa campagna elettorale che lei non ha contribuito a risolvere anche non rispondendo su tutti questi cambi di idea e sulle questioni rispetto al 2019 è che le persone non sapevano da che parte stava chi era effettivamente perché a meno di non seguire molto la politica e moltissime persone non la seguono molto Kamala Harris era un po' un punto interrogativo le primarie avrebbero permesso intanto di far emergere dei punti deboli prima ma anche di dar modo di raccontarsi al paese Biden non l'ha fatto si è ritirato peraltro contro voglia quando era ormai luglio e non era mai successo così tardi che un candidato si ritirasse questo è stato sicuramente un errore che ha condizionato molto la campagna dei democratici ma di nuovo è più interessante secondo me provare ad allargare lo sguardo rispetto agli errori o alle colpe di Biden e in questo caso di nuovo riguardano tutto il partito e hanno a che fare con una filosofia che gli americani adesso chiamano deliverism ne vedrete parlare e scrivere moltissimo nei prossimi mesi e cioè la lezione che i democratici hanno tratto dalla vittoria di Trump del 2016 non ci siamo occupati abbastanza dell'America più fragile dell'America che soffre della classe operaia dei poveri bianchi che hanno votato per Trump eccetera e dal 2016 in poi soprattutto durante il mandato di Biden un po' l'ossessione dei democratici è stata puntare su quelle persone portare deliver vuol dire ottenere dei risultati portare dei risultati a quelle comunità rurali ai bianchi più poveri ed è stato quello che è successo effettivamente se guardi i dati economici sull'occupazione anche su dove è arrivata la nuova occupazione sulla reindustrializzazione i democratici hanno fatto moltissimo per quelle parti del paese eppure quelle parti del paese li hanno puniti ancora di più alcune storie di questa campagna elettorale sono veramente assurde i democratici hanno lottato al congresso contro l'opposizione dei repubblicani per stanziare oltre 80 miliardi di dollari per esempio per salvare le pensioni dei camionisti perché il fondo pensione su cui versavano i contributi era in grande difficoltà e c'è stato una sorta di salvataggio da parte del governo fatto dai democratici contro i repubblicani beh quel sindacato dei camionisti non solo alla fine non ha sostenuto Biden alle elezioni il capo è andato a parlare alla convention di Trump il sindacato dei pompieri che sostiene da sempre i democratici a questo giro non si è espresso nonostante il capo di quel sindacato avesse un enorme rapporto con Biden quel mondo si è raffreddato ulteriormente e quindi forse la ragione per cui quel tipo di elettorato si era allontanato dai democratici non aveva a che fare soltanto o forse non aveva proprio a che fare con le condizioni economiche di queste persone che quando sono migliorate non li ha portati a dire beh sai che però sti democratici se sono migliorate è merito mio o è merito di Trump i democratici mi hanno messo invece i bastoni tra le ruote e questa distanza questa opposizione oggi forse ha altre ragioni se guardi quali sono le linee che separano l'elettorato oggi degli Stati Uniti quali sono i criteri che permettono di predire il comportamento elettorale di qualcuno quel criterio oggi non è il censo non sono i soldi che guadagni il criterio più predittivo in assoluto è il titolo di studio i laureati votano sempre di più per i democratici i non laureati sempre di più per i repubblicani e questo non accade perché i non laureati sono più poveri dei democratici ma forse in questa appartenenza in questa differenza culturale c'è lì la vera questione che i democratici hanno perso di vista chiaramente negli ultimi anni questa cosa che hai detto è molto interessante va anche oltre la campagna elettorale americana perché intuitivamente il deliverism come dicevi tu cioè portare risultati alle persone anche anticipando i loro bisogni dovrebbe funzionare se io faccio qualcosa per te tu sei contento e mi voti dovrebbe funzionare così effettivamente la stessa campagna di Joe Biden ha detto più volte che non è stata brava a comunicare questi risultati Joe Biden ha messo in atto il più grande piano di riforme economiche strutturali infrastrutturali dai tempi del New Deal ma mentre Roosevelt aveva trovato il nome perfetto New Deal Biden un nome non l'ha trovato beh ci provarono con Bidenomics ci provarono con Bidenomics non è andata benissimo è una questione di comunicazione è una questione del fatto che ormai le questioni culturali le battaglie culturali l'identità è diventata più importante appunto come dicevi tu del censo è diventata più importante del benessere economico è diventata più importante per cui io pur di rispettare il mio voto identitario voto per un candidato che più o meno so che non mi farà bene dal punto di vista economico è diventata così? questo è altro nel senso questo sicuramente sì l'idea che le persone siano mosse nei loro comportamenti elettorali innanzitutto dai soldi naturalmente fondata e parliamo proprio dell'inflazione di quanto abbia pesato in questa campagna elettorale non dimentichiamo che questo è il paese più prospero economicamente al mondo con un tasso di disoccupazione al minimo storico un'economia che cresce molto un livello di benessere comunque molto superiore anche a quello dell'Italia delle nostre città l'americano povero vive in una casa parecchio più grande di quella di un italiano benestante che vive in città magari in un appartamento e questo vale per molte altre questioni per molte altre invece stiamo meglio a noi ma insomma questo livello generale di benessere di opportunità può farti soffrire le condizioni di un momento difficile oppure sai in America se inciampi poi te la vedi brutta se perdi l'assicurazione sanitaria se la tua casa viene distrutta eccetera ma ha fatto sì che nel tempo poi l'idea e la consapevolezza di potersi rialzare di far parte di un'economia così forte facesse sì che questo malessere avesse delle ragioni più culturali o comunque anche culturali e non solo economiche poi ho visto abbastanza elezioni per essermi convinto che i problemi di comunicazione in politica non esistono cioè i problemi di comunicazione sono problemi politici se non riesci a comunicare una cosa in modo efficace il problema non è che non hai trovato lo slogan vincente e se ci pensiamo ancora un po' e se ingaggiamo la giusta agenzia di comunicazione ce la faremo il problema di comunicazione è sempre un problema politico Biden ci ha provato a vendere i risultati della sua economia che sono evidenti ma le persone erano concentrate sull'inflazione la bestia più brutta che ci sia per un politico si è riparlato in queste settimane di come durante l'amministrazione Obama il pacchetto di stimolo per l'economia dopo quella crisi fu un pacchetto molto piccolo stanziarono pochissimi soldi la ripresa fu molto lenta e gli opamiani della Casa Bianca dicevano avete ragione ma se noi esageriamo e comincia l'inflazione voi non avete idea di quanto è peggio per un partito al governo affrontare l'inflazione invece che una ripresa lenta ma che procede infine una cosa che ha detto Tim Walz durante questa campagna elettorale Tim Walz forse col senno di poi una delle scelte più sbagliate di Kamala Harris in questa campagna ma lui ha detto una cosa molto vera secondo me se fai politica lo scopo è guadagnare capitale politico cioè guadagnare capacità di far succedere le cose influenza consenso voti per approvare una riforma per far cambiare le cose e quindi spendere quel capitale lo scopo non è guadagnarlo per tenertelo e poi essere rieletto la prossima volta insomma in qualche modo è previsto dalle grandi leggi della politica che tu guadagni del consenso per fare delle cose che sai potranno farti perdere quel consenso perché pensi che siano giuste e quando perderai quel consenso ti farai da parte e arriverà qualcun altro da un certo punto di vista i democratici durante questa amministrazione hanno speso il loro capitale politico hanno innescato per esempio una ripresa economica impetuosa Trump ne coglierà molti frutti nel corso del suo secondo mandato e adesso quel capitale l'hanno speso tutto e adesso è Trump che deve decidere come spenderà il suo parliamo un po' appunto di Donald Trump Trump il 6 gennaio del 2021 ha aizzato i sostenitori per attaccare il congresso americano a Washington una parte consistente dopo questo fallito tentativo una parte consistente del partito repubblicano gli andò contro andò contro di lui e per un momento si disse Trump è finito nel 2022 il partito repubblicano è andato molto peggio del previsto alle elezioni di metamandato i candidati scelti da Donald Trump sono stati quelli che sono andati peggio in assoluto e anche quella volta si disse Trump è finito questo per non parlare dei processi per non parlare di tutti i vari scandali sessuali che hanno riguardato Donald Trump per non parlare della gestione del covid quando era presidente per non parlare del fatto che tantissimi suoi ex collaboratori nell'amministrazione non lo hanno sostenuto a queste elezioni alcuni hanno anche detto che è un dittatore fascista ora lo so che ormai da tanto tempo le asticelle politiche sono andate da tutte le parti però come ha fatto Trump a risorgere tutte queste volte la risposta che possiamo provare a dare ma poi su questo argomento un po' meglio nella parte dei consigli perché ho un consiglio proprio su questo tema che risponde a una di queste domande è che Trump è che Trump riesce a incarnare con la sua identità con il modo che ha di porsi di parlare con la volgarità con alcune anche delle cose che hai raccontato un certo tipo di atteggiamento nei confronti del mondo un approccio nei confronti della politica un approccio nei confronti dei propri avversari oggi una forte motivazione per cui si vota da una parte o dall'altra non solo negli Stati Uniti e non soltanto a destra è votare contro qualcuno vendicarsi contro qualcuno che ti sta sulle scatole dire finalmente a chi disprezzi cosa pensi davvero di lui o di lei ecco dare modo alle persone di votare in quella direzione non semplicemente perché concordi con una riforma o con una policy ma perché c'è una persona che vedi si sente come ti senti tu che è in grado di tradurre quella rabbia o quel desiderio di ridere in faccia al sistema in modo più credibile di quanto facciano i democratici Trump è molto trasparente nessuno pensa mai che Trump sia posticcio mentre puoi pensarlo di Kamala Harris o di un qualsiasi politico anche repubblicano che vedi aver calcolato ogni mossa e fare le cose con grande attenzione sottoponendo prima gli slogan i focus group eccetera è molto chiaro a tutti che Trump non fa niente di tutto questo che Trump è come lo vedi che Trump arriva e dice la sua e qualcuno si scandalizza e voleva ascoltare la musica sul palco per mezz'ora e lo fa in questo però molte persone vedono qualcuno che riconoscono ho capito chi è e quindi ho capito anche in cosa mi può piacere e in cosa no quello che propone dietro ai politici più pettinati e più plastificati gli americani spesso non capiscono cosa ci sia dietro e quindi tutte le polemiche le controversie sorte attorno a Trump in questi anni vengono lette da un pezzo almeno dell'elettorato americano come una conseguenza del suo essere sempre contropelo del suo essere sempre provocatorio nei confronti di un sistema che però agli americani non piace il parlamento il congresso la polverosità delle aule di tribunale ecco Trump scompiglia Trump spariglia e questo per diverse persone è liberatorio è anche a volte un desiderio di vedere caos e tumulti dentro ambienti che si giudicano chiusi sigillati rispetto all'esterno protetti da quello che accade all'esterno Trump è il fumogeno che viene lanciato dentro il congresso e costringe tutti a scappare quello che poi è accaduto il 6 gennaio ecco Trump è in senso figurato quella cosa lì e per molti americani quella è una visione soddisfacente una visione che forse anche non so se le ricompensa di qualcosa sto cercando la parola più adatta ma ecco li soddisfa li appaga una cosa che si è detta tante volte quando si è parlato della possibilità di un nuovo mandato di Donald Trump è che questa volta Trump fa sul serio nel 2016 anzi nel 2017 quando poi entrò in carica Donald Trump sotto molti punti di vista non riuscì a fare tutto quello che voleva fare secondo lui perché boicottato dal deep state secondo i democratici perché boicottato da patrioti dentro alle istituzioni in generale perché la sua amministrazione era caotica confusionaria la gente entrava usciva lui licenziava segretari ministri li scartava come se fossero delle carte di caramelle già mangiate e però invece quello che si dice è che questa volta Trump farà sul serio che questa volta non si farà affermare dal cosiddetto deep state che questa volta il suo programma nel bene e nel male lo metterà in pratica per davvero che cosa significa? Dunque la cosa che è accaduta è quella che hai descritto tu e non ho nulla da obiettare rispetto a questa descrizione peraltro alcuni pensatori intellettuali conservatori critici con Trump ma pensano che questa sia stata questa situazione una delle chiavi in realtà delle cose buone che ha fatto secondo loro durante la sua amministrazione perché a questa attitudine così non curante delle prassi dei protocolli dei precedenti a questa costante prova di forza per sbloccare anche in modo irrituale imprevedibile situazioni incancrenite ecco si era abbinata invece la capacità di governo e di tenere le cose a posto della classe dirigente storica della destra e quindi questo mix aveva prodotto un governo effettivamente in grado di scompigliare un po' le cose ma senza essere completamente irresponsabile questo è il punto di vista diciamo conservatore di chi difende un po' quel mandato lì ed è vero che oggi Trump non ha più nessuno di questi cordoni di sicurezza dall'altra parte fammi fare ancora l'avvocato del diavolo quando Trump si insediò nel 2016 anzi nel 2017 io non ricordo che qualcuno diceva in giro vabbè comunque a stare tranquilli perché sì Trump pensa queste cose ma attorno c'è il partito poi vedrete che nel caos non riuscirà a fare niente il deep state cosiddetto gli impiegati dei ministeri sapranno frenare i suoi impulsi più radicali alle brutte l'esercito non obbedirà ai suoi ordini quindi non vi preoccupate o comunque non sarà poi così male non rischiamo grosso no già all'epoca si diceva rischiamo grosso Trump farà il bello e il cattivo tempo la democrazia è in pericolo poi non è che le cose non sono successe perché il 6 gennaio non ce lo dimentichiamo è perché sono accapitate un sacco di altre cose ma ecco l'atteggiamento di partenza del andrà tutto a rotoli si è già visto nel 2016 e il ricordo che molti americani hanno di quel mandato è che non è andato tutto a rotoli che Trump ha fatto delle cose opportune delle altre sbagliate quando si è trattato di votare lo hanno cacciato e oggi hanno deciso di riprenderselo ed è un procedimento democratico tutto sommato normale il fatto che a voi non piaccia sto ancora interpretando il trumpista piuttosto che farvi mettere le mani nei capelli e urlare alla fine della democrazia dovrebbe semplicemente motivarvi a cercare di vincere le prossime elezioni tutto qui te lo chiedo la democrazia negli Stati Uniti è in pericolo la democrazia non è un interruttore on off no? non esiste un test di democrazia per i paesi se rispondi a certi requisiti lo sei se no non lo sei e sappiamo che tantissimi paesi si definiscono o sono democratici nel mondo pur avendo leggi molto diverse sulla tutela delle minoranze leggi elettorali molto diverse poteri diversi per il presidente insomma la democrazia se vogliamo immaginarla in un modo figurato non è un interruttore ma è una sorta di lunga scala puoi fare dei passi in avanti puoi fare dei passi indietro se fai troppi passi indietro forse si a un certo punto smette di essere tale ma io credo che gli Stati Uniti continueranno a muoversi su questa scala e faranno sicuramente dei passi all'indietro perché su questo non ci si può nascondere dietro un dito Trump ha mostrato un aperto disprezzo verso il più grande pilastro della democrazia cioè il rispetto della volontà popolare quello che è accaduto nel 2020 quando ha cercato di restare al potere nonostante avesse verso le elezioni è un abuso scandaloso proprio in termini di rispetto della democrazia questo vuol dire che Trump resterà presidente anche dopo il 2028 questo vuol dire che questa sarà l'ultima elezione negli Stati Uniti come qualcuno sta già dicendo a me questo sembra il delirio sconfortato apocalittico di qualcuno che vuole sfogare la sua rabbia la sua disperazione per questo risultato senza però ragionare troppo su quello che dice è chiaro che tutti i requisiti che ci fanno considerare un paese una democrazia in termini di libertà di espressione libertà di stampa libertà di esercizio del voto saranno messi sotto pressione dal mandato di Trump ma il primo mandato di Trump è stato anche il mandato che ha visto invece un successo senza precedenti della stampa della libera stampa a cui nessuno ha impedito di scrivere quello che voleva anzi il momento di maggior mobilitazione nell'elettorato delle donne per esempio numeri record di candidati tra le donne alla Camera al Senato la democrazia americana in quegli anni chiaramente ha traballato ma ha anche mostrato una certa forza e resilienza e io non vedo al momento motivi per pensare che la democrazia americana sia in pericolo e che gli Stati Uniti diventino una dittatura penso che tante delle cose che ci fanno giudicare un paese o no una democrazia che sono appunto una scala sono delle sfumature ecco vedranno gli Stati Uniti fare qualche passo indietro diventare un paese meno tollerante un paese anche in cui il presidente prende di mire i suoi nemici in modo violento un paese in cui il presidente utilizza il suo potere di presidente per mettere a tacere i suoi oppositori non è che questa cosa però non capiti anche altrove che il capo del governo cerca di utilizzare il suo potere per avvantaggiarsi dell'opposizione per fare pressioni sui giornali è anche quello un ingrediente delle democrazie non delle democrazie molto in salute però eh sì quali sono le democrazie in salute quelle democrazie perfette però io capi del governo di paesi democratici che non cerchino di non far uscire un articolo che sanno essere complicato sui giornali ne conosco tantissimi certo conosco anche i governi che fanno ammazzare il giornalista quelli sono chiaramente i governi non democratici ma che in un governo democratico in un paese democratico ci sia una dialettica forte conflittuale anche tra la stampa e il governo non rende quel paese meno democratico se Trump dovesse togliere la licenza alla CNN per trasmettere sarebbe un gesto gravemente antidemocratico e quando questa cosa eventualmente succederà la commenteremo in quanto tale non voglio fare previsioni sul futuro perché figuriamoci ma se questo è lo scenario che immaginiamo ma quello che più probabilmente accadrà perché poi ci sono dei principi costituzionali rispetto ai quali nemmeno Trump volendo può derogare sarà un conflitto molto duro tra la stampa e il governo sarà la stampa che come è avvenuto durante gli anni di Trump scoprirà un miliardo di cose che avvengono dentro la Casa Bianca di Trump e le racconterà gli americani si faranno una loro idea e tra quattro anni torneranno a votare e decideranno se scegliere Trump ancora o no non può essere perché Trump non potrà ricandidarsi ma come giudicare anche questo rapporto di Trump con le istituzioni americane con la libera stampa con la popolazione con il dissenso Senti adesso vorrei farti una domanda per provare a guardare queste lezioni dal punto di vista della storia e tu mi dirai ma che stai a dire le lezioni sono finite tre ore fa anzi non sono nemmeno finite perché non sono stati attribuiti ancora a tutti gli stati e tu già mi chiedi della storiografia però vorrei provare a cercare di inserire questo decennio di era trumpiana perché possiamo dire ormai che Trump domina la politica americana ormai da un decennio all'interno del grande arco della storia americana se noi guardiamo quello che è successo negli ultimi appunto 10-15 anni la fine della presidenza di Barack Obama con la sua potentissima carica rivoluzionaria che in parte è stata è stata disattesa lo shock di Donald Trump che poi perde nel 2020 e per un momento sembra un'aberrazione momentanea Joe Biden che mette in piedi questo gigantesco progetto di riforme che però diventa un po' anche la sua tomba e il ritorno di Donald Trump quando fra 50 anni gli storici guarderanno questo momento cosa vedranno vedranno un periodo di transizione vedranno un periodo che sta andando da qualche parte da che parte è un esercizio spericolato naturalmente lo facciamo sapendo che è un esercizio spericolato e ci costringe a mettere molto di stacco tra noi e la realtà e quindi a pensare a come giudicheranno queste cose questi fatti persone diverse da noi perché sennò ti dico quello che penso e amen penso che nella storia quest'epoca sarà ricordata tra le altre cose come il momento di vero inizio della grande rivalità tra Stati Uniti e Cina per il dominio economico commerciale militare per il predominio ecco del prossimo secolo e penso che possa essere possibile spiegare questo fenomeno con il fatto che a fronte di un mondo sempre più complicato e in cui le grandi potenze sono potenze non democratiche la Cina su tutte ma la stessa India è un paese democratico ma sappiamo avere un governo sempre più autoritario non parliamo della Russia e di uno storico alleato statunitense che non è mai stato così fragile frammentato debole ininfluente cioè l'Europa la popolazione americana abbia pensato che per affrontare tutto questo servisse una persona molto forte che proietti che trasmetta forza e che sia in grado di prendere delle decisioni radicali e adottare approcci radicali dal momento che gli avversari dell'America non hanno paura di fare lo stesso dal momento che la Cina non ha paura se la disoccupazione giovanile non va bene di smettere di dare i dati di far sparire un ministro di essere molto aggressiva nella sua politica estera e anche molto cinica facendo accordi con una specie di rivale quello che una volta era un rivale cioè la Russia o comunque un junior partner perseguitando le minoranze insomma se i paesi non democratici hanno un vantaggio per la capacità flessibile agile con cui possono prendere decisioni e fare delle cose il popolo americano ha pensato non dobbiamo diventare un paese meno democratico forse ha messo in conto anche tutto questo ma dobbiamo affidarci a qualcuno che possa fare i conti con un livello di minaccia al nostro predominio che non era così forte dai tempi della guerra fredda qualche giorno fa hai scritto un articolo intitolato 84 risposte sulle elezioni americane e a un certo punto parlando appunto della possibilità di una vittoria di Trump scrivevi che in caso di vittoria di Trump adesso sto sto parafrasando però più o meno l'Europa dovrà darsi una svegliata in che senso? beh noi ma questo l'ha detto anche Mario Draghi noi europei abbiamo costruito l'ultimo mezzo secolo sulla base di alcune premesse che non esistono più e queste premesse erano comprare l'energia a basso costo dalla Russia comprare le merci a basso costo dalla Cina lasciare che siano gli americani e pensare alla nostra difesa perché non ce ne siamo mai dovuti preoccupare davvero tutte e tre queste cose sono saltate la terza questa sugli americani e la difesa è quella che è ancora meno saltata delle altre ma l'Europa si troverà ad affare i conti con un presidente statunitense che peraltro in modo non così diverso da Biden stesso e continuerà a guardare al nostro continente in modo sempre meno interessato e non perché ce l'abbia con noi ma perché contiamo sempre di meno e non abbiamo preso grandi provvedimenti per cambiare questa situazione abbiamo il mercato più grande del mondo potenzialmente non abbiamo una politica estera comune di alcun tipo ogni paese si fa la sua si è visto in questi anni sull'Ucraina su Gaza non è un interlocutore l'Europa e quindi a fronte della guerra in Ucraina per esempio è una guerra che si combatte dietro l'angolo dalle nostre parti è piuttosto spiazzante per tanti americani capire perché di questa guerra di questa difesa debbano farsi carico più loro che noi è abbastanza spiazzante vedere come nemmeno l'invasione di un paese alle porte dell'Europa abbia portato l'Europa stessa a fare dei passi avanti veri rapidi sull'esercito comune europeo è abbastanza spiazzante come debbano essere loro insomma risolvere questo problema nel caso di Trump questo ci verrà detto anche in malo modo rispetto ai soldi da versare nella difesa della Nato noi dobbiamo darci una svegata semplicemente perché dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare perché vogliamo continuare a difendere l'Ucraina o vogliamo continuare a chiedere agli americani che difendano l'Ucraina vogliamo pensare alle nostre risorse energetiche o vogliamo continuare a chiedere agli americani che ci vendano il gas e anche che non ce lo facciano pagare troppo vogliamo continuare a sperare che attraverso il conflitto commerciale Cina-Stati Uniti si possa rimediare per l'Europa una qualche fettina di qualcosa che va bene anche per noi o vogliamo giocare alla pari su quel tavolo con la Cina e con gli Stati Uniti mi sembra che mentre altrove queste grandi potenze in modi diversi prendono delle decisioni la Cina ha molto cambiato approccio atteggiamento anche si è molto chiusa dopo la pandemia gli Stati Uniti hanno appena preso un'altra grossa decisione politica l'Europa sta lì a vivacchiare a sperare che alle prossime elezioni in Sassonia o nelle elezioni dell'Assemblea Nazionale Francese il partito X non perda un tot e non ha proprio una direzione lo raccontavi tu con Tony Mastroboni qualche tempo fa rispetto alla leadership della Germania che manca l'Europa può continuare a guardarsi l'ombelico ognuno dentro il suo paese cercare peraltro di risolvere i propri problemi interni dando la colpa all'Europa e agli altri paesi ma stiamo davvero bruciando la candela da entrambe le parti ecco questo gioco è già saltato e l'amministrazione Trump lo renderà ancora più evidente e l'Italia si troverà a suo agio con questa nuova amministrazione Trump per certi versi sì per certi altri no per certi versi sì perché per quanto la Presidente del Consiglio Meloni chiaramente in quanto capo del governo deve avere un buon rapporto con qualsiasi Presidente aveva un buon rapporto con Joe Biden c'è un'affinità politica fra Trump Meloni Salvini appartengono alla stessa famiglia politica e questo metterà più a suo agio il governo italiano nelle relazioni con gli Stati Uniti inoltre su una serie di questioni la pressione statunitense durante l'amministrazione Biden ha fatto sì che il governo italiano potesse muoversi relativamente poco sull'Ucraina per esempio se l'Italia vuole continuare ad avere un buon rapporto con gli Stati Uniti e anche a contare in Europa non è che può sfilarsi dalla difesa dell'Ucraina ma quando saranno gli Stati Uniti a dare protezione politica a queste posizioni quando Trump dirà congeliamo la guerra così com'è senza cessioni di territorio ma facciamo una trego un cesso del fuoco congeliamo tutto e riparliamone poi ecco troverà sicuramente nel governo italiano un partner interessato a fare quella discussione e questo vale ancora di più per l'Ungheria per la Polonia quando fin qui quando Biden diceva pagate anche voi per difendere l'Ucraina il governo italiano magari controvoglia ma alla fine il bonifico l'assegno lo staccava per altri versi però questa elezione di Trump all'Italia può creare grossi problemi perché la nostra economia è fondata quasi interamente sulle esportazioni il nostro primo partner commerciale è la Germania e se la passa malissimo come sappiamo il nostro secondo partner commerciale sono gli Stati Uniti noi vendiamo tantissime cose tantissime merce agli Stati Uniti e davvero un grosso pezzo della nostra economia passa da quello se Trump introdurrà come ha promesso questi dazi sui prodotti stranieri comprati dalle aziende americane del 10 del 20 del 50 del 100 del 200% ha detto Trump a un certo punto poi ha detto lo so che dico numeri a caso ma il punto è che capiate cosa voglio fare questa è un'altra grossa questione i democratici prendono Trump letteralmente quindi dicono ma com'è che invento ogni volta un numero gli americani capiscono cosa vuol dire il numero poi lo vediamo ma ho capito cosa vuoi fare ecco una scelta di quel tipo segherebbe le gambe a un sacco di imprese italiane che campano sulle merci che vendono negli Stati Uniti e quello ci farebbe davvero molto male sarebbe un grosso problema per il paese quindi anche per il governo prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo chiaccialalpost.it vi ricordo di attivare le notifiche di consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe interessare e diffonderlo sui social e adesso Francesco ti chiedo tre consigli peraltro visto che sei un ospite ricorrente infatti non me li abboni adesso ne ho già fatte assolutamente assolutamente no anzi chi ci ascolta tornando alle puntate precedenti può ormai crearsi una piccola collezione di consigli di Francesco Costa allora tre consigli uno di questi ora non ricordo potrei averlo già consigliato nella puntata di quest'estate ma eventualmente è un consiglio che ribadisco soprattutto oggi soprattutto per chi si pone una domanda che capisco naturalmente ma alla quale se ti fai questa domanda devi trovare urgentemente una risposta secondo me cioè ma come fanno a votare uno così no? come fanno a non capire una cosa che per me è così evidente cioè che questo personaggio è eccetera eccetera e allora vuoi una risposta a questa domanda e che sia una risposta meno autoconsolatoria di sono matti sono scemi non capiscono niente sono più intelligente di loro una cosa interessante da leggere anzi vanno tutte in questa direzione in realtà le cose che ti consiglio che vi consiglio è un'intervista un'intervista di J.D. Vance futuro vicepresidente degli Stati Uniti con Ross Dudet che è il principale editorialista conservatore del New York Times un conservatore non trumpista che ha disprezzato il 6 gennaio molto lontano da Trump però con idee conservatrici e questa conversazione è una vera conversazione in cui si parla del 6 gennaio in cui si parla delle cose assurde che dice Trump in cui si parla di come J.D. Vance si è passato dal detestare Trump a capire secondo lui che lui la risposta ai problemi dell'America io l'ho trovata molto interessante perché a un certo punto capisci che c'è anche della razionalità poi uno può condividere o no quelle idee naturalmente ma non è tutto un delirio basato soltanto sulle vibes o sull'ignoranza se tante persone scelgono Trump e questo tipo di proposta politica il secondo approfondimento va sempre in questa direzione in realtà è un contenuto molto più recente è una puntata del podcast di Ezra Klein che si può anche leggere nella sua trascrizione sul sito del New York Times è intitolato What's wrong with Donald Trump cosa c'è che non va con Trump ed è una puntata che parte da quei giorni in cui Trump sembrava in campagna elettorale gli ultimi giorni molto stanco molto affaticato biascicava e soprattutto da quella scena di Trump che durante un comizio decide sentite basta parlare mettiamo la musica e per mezz'ora ascolta la musica partendo da lì lui ricostruisce secondo me in modo molto convincente qual è la principale caratteristica che rende Trump un politico unico anche rispetto agli altri repubblicani molto più forte il trumpismo senza Trump non funziona tantissimo ma Trump è unico perché lo argomenta poi lui quindi mi limiterò soltanto a dirlo perché è disinibito perché è privo di ogni inibizione e questo lo rende un personaggio completamente imprevedibile magnetico e che fornisce agli americani una serie di risposte che nessun altro anche a destra fornisce questa è la base del suo appeal a me è sembrato convincente il terzo contenuto mi perdonerai diciamo l'autoreferenzialità ma io nello scorso gennaio sono stato negli Stati Uniti a seguire le primarie del partito repubblicano e ho parlato con un sacco di persone che hanno scelto Trump a quelle primarie e poi in un video ho cercato di raccontare perché queste persone votano Trump cercando appunto di andare oltre i luoghi comuni è un video che dura 30 minuti quindi dovete essere pronti se avete questa domanda a investire almeno mezz'ora del vostro tempo per cercare la risposta si intitola perché i repubblicani hanno votato Trump e sul canale di da costa a costa ci sono un sacco di loro voci un sacco di loro punti di vista un tentativo di mettersi davvero nei loro panni che è una cosa che soprattutto se siamo lontani da quel mondo se ci pensiamo lontani da quell'elettorato non sempre è facile riuscire a fare è uno dei video più visti sul canale di da costa a costa uno dei video più circolati quest'anno quindi alla luce anche del fatto che tante persone l'hanno trovato interessante penso che possa essere una risposta interessante a questa domanda Francesco grazie grazie Eugenio grazie a tutti ciao